Questa è un attimo per la borsa con il Fuzzimib che in questo momento lascia sul terreno lo 0,2% circa, siamo intorno ai 21.160 punti. Come sempre vi invitiamo a cliccare sulla i che compare nel video dalla quale si accede al link per Megatrader che è un nuovo sistema di analisi tecnica e trading system sviluppato da FTA in collaborazione con Trend Online per cercare di darvi una mano sulla scelta dei titoli migliori sui quali fare trading. Dicevamo di un Fuzzimib incerto questa mattina, vediamo che le quotazioni ancora non si sono riprese dal brutto scivolone di venerdì, è stato completato il doppio massimo che i avevano disegnato intorno ai 21.570-280 punti, la violazione di 21.290 ha completato la figura e a questo punto vediamo che c'è questo gap rialzista che le quotazioni sono lasciate alle spalle il 10 luglio con una base intorno ai 21.000 punti, 21.020 che potrebbero volere andare a ricoprire prima di tentare eventualmente un rimbalzo. In caso di violazione di questi livelli notiamo che c'è un altro gap ancora inferiore che si posiziona intorno ai 21.630 punti. Sul grafico giornaliero del Fuzzimib, quindi passiamo dall'intraday al daily, si conferma la presenza del piccolo doppio massimo, abbiamo anche una importante linea di tendenza, quella che sale dai minimi dello scorso novembre, vediamo che via via la linea si è andata abbassando, prendiamo come riferimento i minimi che successivamente l'indice ha disegnato, in questo momento la linea tracciata per l'ultimo minimo rilevante passa intorno ai 21.000 punti, area che si conferma quindi di estrema importanza per quello che riguarda la tenuta dell'up trend di medio termine, la media mobile a 100 giorni anche questa funziona ancora da supporto e coincide più o meno con della base della fase latrale che le contazioni hanno disegnato nell'ultimo bimestre e che se violata confermerebbe la via di una fase negativa di ampio respiro. Abbiamo comunque ancora molti supporti al di sotto di noi prima di dovere prendere atto che la tendenza di fondo è cambiata, quindi per quello che riguarda il medio termine si può mantenere ancora un atteggiamento moderatamente positivo, c'è molta confusione per quello che questa alternanza di rialzi e di ribassi ha reso molto difficile l'operatività di breve termine in quanto sono abbondati i falsi segnali, chi di voi opera probabilmente se ne sarà accorto. Passiamo adesso ad alcuni titoli che questa mattina si stanno comportando bene relativamente a quello che sta facendo il mercato, iniziamo con Buzzi Unicen che ha un quadro grafico molto interessante, questo perché le cotazioni sono in prossimità di un'area di supporto di grande rilevanza, vediamo che nella seduta di venerdì i prezzi con i minimi di quota 21,71 erano andati molto vicini ai minimi di giugno, toccati a 21,65, al minimo del 18 di maggio a 21,55, questo è forse l'elemento più rilevante del grafico, perché questo minimo è un martello, una candela di grande importanza, la sua presenza identifica l'esistenza di forti supporti e infatti il martello si è sviluppato in corrispondenza dei minimi che i prezzi avevano disegnato ad aprile a 21,44, quindi dicevamo un forte supporto che è stato avvicinato ai prezzi, il tentativo di rimbalzo oggi è quindi la condizione ideale per chi opera con un atteggiamento abbastanza aggressivo per intervenire al rialzo, gli spazi per un tentativo di crescita sono infatti abbastanza ampi e puntano fino ai massimi di maggio a 25,22, il rischio invece di un avvio di una fase negativa, quindi di dover attivare uno stop loss è limitato a area 21,50, quindi si può intervenire già sui prezzi attuali, stop subito di sotto a 21,50, primo target sul massimo del 10 luglio, 23,13, ma prospettiva successivamente di vedere riattraversare tutto questo trading range con i prezzi diretti verso la sua parte alta. Passiamo adesso a Luxottica, Luxottica questa mattina si sta comportando molto bene, sale di quasi l'1%, siamo a 51,60, ancora di sotto dei massimi di venerdì di 52,55, quindi un tentativo di rimbalzo che per adesso può essere considerato solamente correttivo, resta il fatto che le quotazioni stanno cercando di costruire una fase di ripresa dai minimi del 30 giugno, è vero che questo tipo di andamento potrebbe coincidere con la formazione di un flag, di una bandiera, quindi di una figura di continuazione della precedente tendenza di bassista, siamo comunque in una fase molto fluida in cui ci possono essere facilmente evoluzioni in entrambi i sensi con la tenuta dei supporti della 50-50, però riteniamo che ci sia una buona probabilità di vedere i prezzi, cercare di riportarsi verso la forte resistenza di era 55,20 e 55,30. Anche in questo caso quindi siamo in una situazione ideale per avviare posizioni di trading per quanto rischiose, fino a che ci manteniamo di sopra di questa linea di tendenza che può essere anche vista come la base di questo, se vogliamo testa a spalle, anche se non forse da manuale, ma insomma di questa area di distribuzione, quindi fino a che rimaniamo di sopra di area 50 e 50 si possono mantenere posizioni a rialzo, addirittura anche di iniziarne di nuove incrementandole poi di sopra di 52,50 euro con obiettivi fino a 55,20 euro. A di sotto 50 e 50 invece grande attenzione perché la correzione di tutta la fase rialzista dai minimi dello scorso ottobre potrebbe in quel caso riprendere. Passiamo adesso a Banca Generali che questa mattina sta cercando di reagire dopo la flessione di venerdì, il massimo di venerdì era stato toccato a 28,13, questa mattina siamo a 27,93 quindi molto vicini a quei livelli di prezzo, si è notata nel corso delle ultime settimane una certa difficoltà nel superamento dei massimi che prezzi hanno toccato a maggio a 28,40 euro circa, questa resistenza è stata avvicinata nuovamente sia nella parte centrale del mese di giugno ma anche nelle ultime sedute, giovedì scorso infatti i prezzi erano saliti fino a 28,45. Quindi c'è un forte pressing su questa resistenza, se i prezzi dovessero riuscire a saltarla sarebbe possibile dichiarare ripreso il trend rialzista che le quotazioni hanno disegnato dai minimi dello scorso settembre in quel caso il target si andrebbe a posizionare sul lato alto dell'ipotetico canale che si va delineando da alcuni mesi, quindi obiettivi fino a 34,50 euro circa. Ovviamente se invece dovessimo scendere al di sotto di questa linea tendenza, vediamo dove transita la media mobile a 100 giorni, poco al di sotto della trend line intorno a 26 euro, quindi se dovessimo perdere il contatto con i 27,26 euro, a quel punto la fase laterale che abbiamo evidenziato nell'ellissi sarebbe da considerare un potenziale doppio massimo e se completato dalla violazione dei 25,30 euro, si potrebbe avviare una fase ribassista di almeno 3 euro. Quindi nel caso di Banca Generali forse è meglio, piuttosto che intervenire già sui livelli attuali, aspettare la rottura di 28,50 con un'ottima prospettiva di rialzo di sopra di quei livelli, invece per chi dovesse già avere il titolo la discesa di sotto della 27 sarebbe un primo forte campanello di allarme. Veniamo infine ad Italgas che ci è stata richiesta settimana scorsa da un ascoltatore, il titolo è abbastanza interessante, siamo in realtà ancora in una fase potenzialmente correttiva perché se andiamo a vedere dal massimo del primo di giugno i prezzi hanno avviato una flessione, questa flessione li ha portati in prossimità della media mobile a 100 giorni, il rimbalzo ancora non si è riportato al di sopra dei massimi precedenti, quindi potremmo essere ancora nell'ambito di una fase correttiva complessa, a favore dell'evoluzione positiva del titolo del breve termine c'è la presenza di questo doppio minimo che ha quasi esaurito il suo potenziale, nel senso che se andiamo a calcolare il target del doppio minimo dato dalla proiezione della sua ampiezza dal punto di rottura ci accorgiamo che questo target è già stato raggiunto in area 4,72€, quindi più o meno sui prezzi attuali, ma sappiamo anche che il target identificato dalla proiezione dell'ampiezza del doppio minimo o anche del doppio massimo è solo il primo dei target che il mercato può raggiungere, quindi se le quotazioni dovessero salire al di sopra di 4,72€ avremo la possibilità di riportarci almeno sui massimi di giugno a 4,92€. Un primo supporto rilevante ovviamente sarà la parte alta del doppio minimo che abbiamo disegnato, quindi in caso di discesa al di sotto di 4,53€ ci sarebbe da iniziare a preoccuparsi per la tenuta della tendenza rialzista, il rischio in quel caso di una correzione di tutta la fase crescente che c'è stata dai minimi prossimi alla quotazione del titolo a novembre dello scorso anno la linea di tendenza passa praticamente dove passa anche la media mobile a 100 giorni a 4,36€, la discesa di sotto di quella linea invece costringerebbe a cambiare radicalmente lo scenario perché ci imporrebbe di considerare probabile una fase correttiva di tutto il precedente rialzo e vediamo che in termini di ritracciamenti Fibonacci anche solo il ritorno sul 50% vorrebbe dire avvicinare i 4,00€. Comunque Italgas è sicuramente un titolo da seguire con attenzione e l'accortezza è quella appunto di posizionare lo stop loss per le posizioni di breve subito al di sotto dei 4,55€. Verifichiamo se ci fossero domande da parte vostra alle quali siamo in grado di rispondere. L'analisi Unicredit forse la possiamo rimandare a domani così magari possiamo fare un focus sulle principali banche italiane. Per quello che riguarda Salini invece possiamo andare a vedere se c'è una situazione grafica interessante, il titolo in questo momento è in calo dell'1%, la domanda diceva se siamo intorno ai 3,02€, la domanda dell'ascoltatore era quello se c'era la possibilità di rottura dei 3,16€. Andiamo quindi a vedere se riesco a recuperare velocemente il titolo in modo da darvi un quadro grafico dettagliato, abbiate solo un attimo di pazienza che recuperiamo la scheda giusta. Il massimo di oggi è stato toccato a 3,05€, quindi siamo ancora al di sotto della resistenza che indicava il nostro ascoltatore, come sempre la tecnologia nei momenti di bisogno non aiuta. La cosa migliore a questo punto è quindi se ci prendiamo tempo per parlare di Salini, anche in questo caso cercheremo di introdurre nella prossima analisi. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo buona giornata, e vi diamo appuntamento a domani con il consueto commento giornaliero.